Lo definiscono arrogante e spocchioso, in realtà chi lo conosce dice che si tratta solo di grande sicurezza nei propri mezzi, tra l'altro spesso supportata dai risultati. Di Maria, crossa con l'esterno, è solo e porta avanti l'Argentina, il Kun Agüero, grandissima palla di Di Maria per Serchi Agüero che rompe l'equilibrio al ventesimo minuto a Dusseldorf. Ha dovuto solo spingere in rete il Kun, segnando il suo ventitresimo gol in nazionale l'Argentina, in attesa di Messi, in attesa forse anche di Guainela Vessi e Maria. È regolare, la posizione di Agüero. Una dormita sul delizioso cross esterno da parte di Di Maria. È rimasto fermo, Mattias Ginter non Agüero che di prima intenzione ha fulminato Neuer, 1-0 per l'Argentina. L'occasione migliore ce l'aveva avuta la Germania, il 2x2 vinto da Romero su Gomez.